Il meteo non ha giocato a favore della manifestazione, ma Agri Umbria si è confermato uno degli eventi di riferimento per il mondo agricolo italiano. Edizione da record, quella conclusasi nei padiglioni di Umbria Fiere a Bastia Umbra, con numeri analoghi a quelli del 2019. In attesa del bilancio ufficiale delle presenze, che avverrà solo nei prossimi giorni, c'è ottimismo, ma soprattutto grande soddisfazione dello staff organizzativo per la riuscita della manifestazione. Siamo contenti di quanto è successo in questi tre giorni, ha riferito Lazzaro Bogliari, presidente di Umbria Fiere. Abbiamo accolto tantissimi addetti ai lavori, agricoltori, allevatori e famiglie. I flussi della domenica sono in linea con quelli dell'edizione record e questo oggi, in questo contesto socio-economico incerto, è un risultato da incorniciare. Oltre alla parte espositiva articolata nei vari settori di interesse, dalla meccanizzazione alla tecnologia aziendale, con oltre 400 stand in rappresentanza di circa 2.500 marchi, la fiera si è concentrata anche sui ring esterni, scenario dei concorsi zootecnici. Tra questi, la 35esima mostra nazionale della razza chianina e la 29esima mostra nazionale della razza romagnola, organizzati in stretta collaborazione con AIA, Anacli e Anabic, con cui è stato siglato il protocollo che sancisce Agri-Umbria come polo delle carni italiane. Un accordo che rafforza ulteriormente il peso della manifestazione nell'organizzazione di concorsi nazionali e disposizioni legate alla promozione delle razze italiane, con particolare attenzione alle razze bovine da carne. Come spiegano dall'Associazione Italiana Allevatori, Agri-Umbria si conferma una delle migliori vetrine delle selezioni made in Italy, soprattutto per i bovini da carne. Ottimi risultati anche per le asse, con un top price per quella delle manze chianine, che è arrivato a 3.700 euro. Nei primi tre giorni di aprile, non solo tecnologia, attrezzature e macchine, ma anche mostre, rassegne zootecniche, saloni specializzati, convegni, meeting, master di approfondimento, cooking show, spazio anche agli animali da cortile, all'ortoflorovivaismo, all'alimentazione, con la partecipazione di consorsi, cooperative e di singoli espositori con prodotti dell'intera penisola.